Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna. Allora oggi vi parlerò di tre prodottini e vediamo un po' come mi sono trovata con due di questi. I proverò in diretta con voi. I prodottini sono questi tre. Passiamo subito da quello che non mi è piaciuto. Allora di Sephora Ultra Jaws Intense lo 01. Sono quei gloss che danno volume. Questo è quello in colore. Mi avevano garantito no non pizzica non pizzica. No ragazzi pizzica. Io l'ho dovuto togliere e tuttora vedete le labbra sono rimaste comunque un po' infiammate e poi sono passati solo dieci minuti. E' rimaste un po' infiammate perché sono colorate e sento ancora che pizzicano. L'ho dovuto togliere e poi ogni tanto tampono con un po' di cotone imbevuto di acqua termale che così rinfresca un po'. Per me no. Io questi io ma io ho una pelle agé sensibilissima. Per me questi no. Questo è il più di credo che sia il più delicato in commercio quindi è sicuramente un ottimo prodotto però mi chiedo anche se io usassi quelli molto più forti. Non voglio fare nomi perché non li ho mai usati che proprio la gente mi dice mamma mia che bruciore. Gente addirittura che ha dovuto ricorrere a cure mediche. Un prodotto oggettonatissimo peraltro che è già fuori da un po'. Siamo fatti uno diverso dall'altro. Gli altri due prodottini speriamo che vadano meglio. Uno è questo. Sapete quanto io amo i Wet n Wild. Lo amo. Ah qui non è andato via tutto il plastichino. Ah che devo averlo tolto tutto invece è rimasto ancora un po'. Vabbè. Ho visto che si poteva aprire quindi non ho insistito quando è arrivato stamattina. Questi due qui li ho presi online. Quello l'ho preso di persona da Sephora. Allora. No l'avevo chiesto anche alla venditrice. Vabbè ma Porella le fa. Non so. Io non l'ho mai provato però nessuno si è lamentato. Va bene. Comunque sapete quanto io amo i Wet n Wild. Questo è molto consigliato. L'ho preso su Amazon. Il Megaslix Lip Gloss Brian Alevre. Non vorrei dire una cavolata ma mi sembra che lo consiglia Giulia Cova in un suo video. È così? Ditemi se è così. E questo è il colore più scuro che avevano. Ed è il Crushed Grapes. Non lo uso sulle labbra che le lasciamo un po' tranquille. Però era diciamo di quelli a disposizione. quello più colorato. È ovvio stiamo parlando di un gloss. Quindi però pare che abbia una discreta durata. È bello lucido. Ok. Non amo ta però d'estate mi piace magari mettere un po' un qualcosina di lucicoso. L'altro invece è di un altro brand che amo moltissimo che è Physician Formula. Questo è sempre della linea Butter che è ottimo per la pelle Agé. Ed è l'eyeliner. Si chiama Matte Monoi. Ma la cosa interessante è che è un nero opaco. Interessantissimo. È di quelli classicissimi. Però dovrebbe avere il tratto. Mi sono conservata un attimo la scatola che poi butterò. Vedete? Della classica, proprio della linea Almonoi con il disegnino anche del fiore tropicale. Matte Black. È lunga durata. È vegano. E ha l'applicatore con una punta molto scorrevole. Quindi qui ci sono poi anche tutti gli ingredienti con il loro burro di Monoi eccetera eccetera. Ed è senza glutine, testato dermatologicamente, clinicamente testato e dermatologicamente. Oh no, scusate, oftalmologicamente testato. Ci sono gli ingredienti ma sono scritti troppo piccoli. Il peso sono 6 millilitri la quantità. Quindi il pennellino è questo qui. Bello pienotto di colore. Quindi ne lascio giù un po'. Vediamo come si comporta. Che meraviglia. Guardate qua. Ha fatto in un lampo sia una riga rosa che una riga piccola. Però sembra niente male. È opacissimo come si può vedere. Potrebbe essere interessante. Niente male. Quindi questo e questo non li ho assolutamente testati. Li ho solo aperti. Usati qui. Ho il trucco già fatto. Quindi metterci adesso su un... Ce lo mettiamo? Ma no. Facciamo magari un trucchettino apposta. Sotto c'è una matita. Non vorrei fare troppi pastrocchi. Questo è... sono i due prodottini che ho appena comprato. Vi farò sapere. I prezzi sono abbordabilissimi. Sono due brand che non costano tanto. Questo qui invece... Se avete la pelle molto sensibile come la mia... Lasciate perdere. Tenetevi le labbra che avete. Ciao. Bene. Questo è quanto. Sì, sì. Guardate che opacco che è. Pazzesco. Amiche e amici. Video flash. Tanto per salutarci e dirci ciao ciao e alla prossima. Oggi sono sola soletta perché il venerdì è il mio giorno di relax. Perché i miei vanno in piscina. Oggi hanno fatto la roba alla grande. Sono stati via tutto il giorno in una piscina un po' lontana da casa. E torneranno stasera. Io mi godo il mio terrazzo, le mie cose, il Netflix, il mio libro. I video, eccetera, eccetera. Alla prossima, amiche e amici. Ricordatevi sempre di fare ciò che vi fa stare bene. A me, per esempio, questo qua. Questo qua non mi fa stare bene. Bruci, tesoro. Bruci. Sì, sei bellino, sei bravo, ma... No. Alla prossima. Adesso vanno bene le labbra, eh. Però vedete, sono rimaste un po' arrossate. L'ho tenuto su, credo, un paio di minuti.